buongiorno bentrovati buona domenica di pentecoste 23 maggio ecco il vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano in quel tempo il signore gesù disse ai suoi discepoli se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede non lo conosce voi lo conoscete perché egli rimane presto di voi e sarà in voi non vi lascerò orfani verrà da voi ancora un poco il mondo non mi vedrà più voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete in quel giorno voi saprete che io sono nel padre mio e voi in me e io in voi parola del signore gesù durante l'ultima cena promette il dono del paraclito dello spirito di verità e lo spirito santo discende 50 giorni dopo la sua resurrezione sugli apostoli radunati nel cenacolo l'effusione dello spirito ardente vita d'amore rinnova il coraggio degli apostoli li rende chiesa e li avvia sulla strada della missione noi non possiamo essere uniti come la farina non può diventare pane se non è unita dall'acqua noi non possiamo essere uniti ed essere chiesa se non c'è lo spirito santo che ci raduna ci santifica ci rende corpo di cristo chiediamo quindi la grazia di fare un'esperienza viva dello spirito santo e per questo rendiamo più intensa la nostra preghiera tutti i giorni chiediamo la grazia dello spirito santo e ascoltiamo lo spirito santo perché allo spirito è spirito di umiltà e non può essere negli orgogliosi dobbiamo confermare conformare la nostra vita quella di cristo assomigliare a gesù per poter essere guidati dallo spirito santo lasciamoci guidare dello spirito e lo spirito ci farà diventare simili a gesù ci farà santi preghiamo gli uni per gli altri buona pentecoste sia lodato gesù cristo